Quello che è in atto ritengo essere l'ultimo assalto del regno delle tenebre, l'attacco finale del male contro i figli della luce, attacco che anticiperà la parusia ovvero il ritorno di Cristo per la sua chiesa. E' scritto il diavolo è disceso a voi con gran furore sapendo di non avere che breve tempo. Apocalisse 12 12. E' in atto una guerra non solo geopolitica ed economica ma soprattutto spirituale. Sarà veramente un brusco risveglio per chi non vuole considerare le profezie bibliche. Penso che oggi la fede a costo zero anche qui in occidente non sarà più possibile. Il Signore Gesù parlando del momento cruciale della sua passione e morte prima della sua gloriosa risurrezione paragonò quell'evento alle doglie del parto che avrebbero preceduto la nascita della vita umana nel mondo. E così sarà la fine dei tempi, prima che la Chiesa entri nella gloria eterna. E come cristiani ci appressiamo a vivere i giorni finali, precursori della manifestazione del governo dell'Anticristo. Non ci meravigliamo dunque del delirio collettivo e dell'oppressione del potere. Come dicevo, si tratta di una guerra spirituale e con armi spirituali soltanto può essere combattuta con la determinazione propria del fedele cristiano, vegliando e pregando con una maggiore consacrazione ed egli per certo costudirà con il suo spirito di amore e di forza i suoi eletti il suo popolo. E' scritto, poi vidi dal cielo, ed ecco un cavallo bianco, colui che cavalcava si chiama Fedele Veritiero, Apocalisse 19, 12. Cristo è alle porte, gioiamo poiché sta per apparire la stella del mattino che segue le tenebre della notte dell'errore del peccato. L'alba nuova del Redentore divino è vicina, e il male ha oramai i suoi giorni contati. Gesù esortò i suoi che avrebbero vissuto questi tempi incoraggiandoli a levare il capo al cielo, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni nella gloria del Padre, il nostro benedetto e amato Salvatore Gesù Cristo. Maranatà, vieni presto, Signore Gesù.